il film nato così cioè io ho letto un articolo di questo personaggio che per suonare uno strumento che usano delle corde molto simili molto fini no sono tutte cinque corde tutte uguali una cosa simile al sazzi e lui siccome abita fuori città cioè per andare a comprare una corda quando gli si rompe cioè lui andava invece di andare lì che impiegava moltissimo tempo andava nel campo minato e smontava una una corda di queste mine che si attivano col piede facendola rimbalzare questo mi ha incuriosito cioè questo mi ha portato a pensare a questo tema sono andate intervistare questi sminatori e uno di questi mi racconta che loro praticamente sono ancora in guerra cioè loro continuamente ripercorrono la linea del fronte cioè lo stesso fronte e una volta era il tempo dove ci si sparava loro adesso lo stanno ripulendo ma vivendo continuamente questa questa questo residuo di guerra diciamo che ogni tanto esplode anche qualcosa si è stato intenso e conflittuale umanamente difficile approcciarsi delle persone che hanno subito delle perdite che pochi di noi possono comprendere comunque si intenso e alla fine anche utile per me utile riprendere sempre questo discorso delle guerre che finiscono di quello che rimane dopo e le mine le fanno quasi durare di più di quello quello che dovrebbero quando sono andato a riprendere cioè a incontrare queste persone che alla fine ho visto che loro una cosa potevano dare in maniera cordiale diciamo cioè loro hanno potuto dare semplicemente hanno potuto raccontare e hanno voluto raccontare semplicemente la loro storia cioè a me mi è sembrato veramente assurdo sforzarli per avere diciamo un materiale che si presta al montaggio deciso di di rischiare per poter per poter alla fine cioè rispettare in qualche modo uno quando arriva e filma il lutto cioè le storie di lutto si sente anche un po un po un po un approfittatore non un po un opportunista uno che cerca la storia forte no non è un film che tratta che che è fluido cioè una cosa che io cerco di trattare lo spettatore in maniera come come essere pensante come essere intelligente come essere alla fine durante la presione può anche benissimo uscire e non guardarselo ci lo rispetto cioè però una tematica del genere credo che debba avere una sofferenza anche anche nella nella forma no questo poi magari è sbagliato non lo so credo che sia anche un film un po sbagliato che ha delle cose sbagliate ma credo che sia giusto così principalmente no non lo so 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 non lo so